A rischio il posto di lavoro e la continuità didattica in vista degli esami. Ed è la scorsa settimana la circolare inviata agli insegnanti delle marche non vaccinati ma guariti dal covid da oltre tre mesi oppure da 120 giorni con una dose vaccinale che li obbliga a stare a casa perché il Green Pass sarebbe scaduto. Una regola però che secondo l'avvocato Pieper Ricci è arbitraria e riguarda non i docenti, bensì i sanitari. Da qui le querele depositate contro il dirigente regionale dell'ufficio scolastico Marco Ugo Filisetti. Allora abbiamo presentato sinora una cinquantina di querele ma ce ne sono tante altre da depositare anche perché ho altri appuntamenti con altri docenti. Contestiamo un abuso di potere da parte del dottor Filisetti e un danno erariale oltre anche a una ipotesi di usurpazione del potere. Peraltro si potrebbe anche ipotizzare una tentata lesione del diritto alla salute, del diritto al lavoro perché stiamo parlando comunque di docenti che sono guariti dal Covid e che quindi hanno degli anticorpi naturali che da quando esiste la scienza la copertura degli anticorpi naturali dovrebbe immunizzare dalla malattia. E nella circolare che è stata inviata che cosa veniva richiesto? Allora nella circolare che è stata inviata sostanzialmente è prevista l'allontanamento dei docenti dalla classe. Se sono guariti ai 90 giorni non vale più il Green Pass quando il Green Pass in realtà vale 180 giorni. E quindi loro vengono allontanati e posti a fare sostegno alla docenza alle 36 ore. Ovviamente questo sta creando parecchi problemi anche con gli alunni perché basti pensare a tutti gli alunni di terza medio, di quinta superiore che hanno gli esami, si ritrovano a fare gli esami con dei professori che non conoscono, che non hanno mai visto, che sono dei supplenti che peraltro devono fare anche i collegi. Ma non solo perché, come ha spiegato l'avvocato, questa situazione riguarda sia il diritto allo studio sia il diritto al lavoro. Peraltro una circolare di questo tipo, ha proseguito Perricci, è stata inviata solo nelle Marche. E so che la Campania ha iniziato ad applicare questo sulla base della circolare di Filisetti. Cioè non è una regola che vale per tutta l'Italia, vale per il Marche. Ma che a sua volta riprendeva quella dei sanitari? Assolutamente sì, perché Filisetti ha fatto sostanzialmente una circolare allegando una lettera del Ministero della Salute nei confronti dell'Afneomeceo dove sostanzialmente veniva stabilito che per i sanitari il Green Pass da guarigioni ai 90 giorni non valiva più oppure 120 con una dose di vaccino. Attualmente nelle Marche, in base a quello che lei sa, è in atto una politica diversa per i vari docenti. Che cosa sta succedendo nelle scuole? Nelle scuole sta succedendo di tutto perché non c'è una regola. Nel senso che ci sono dirigenti che stanno mandando la lettera come è avvenuto per il 15 di dicembre dove si dà 5 giorni per produrre una prenotazione entro i 20 giorni oppure per dichiarare che non ci si vuole vaccinare o addirittura purtroppo ci sono dei dirigenti che durante le lezioni vanno in classe e fanno allontanare i docenti lasciando i ragazzi sbicottiti. Anche nella provincia di Pesaro Urbino? Assolutamente sì. Pesaro Urbino, Macerata, Ancona, in tutte le province delle Marche sta succedendo. Sostanzialmente noi stiamo procedendo con le denunce nei confronti di Filisetti e nei confronti di tutti i dirigenti che la stanno applicando con delle diffide con richiesta in autotutela di annullamento immediato del provvedimento di allontanamento dalla classe e peraltro lo stiamo mandando anche al MIUR e lo stiamo mandando anche all'Avvocatura di Stato perché speriamo che qualche organo intervenga.